... Mister Gorbachev, abbatta questo muro. Un'era classe di ultimi nucleari americani e sovietici è stata eliminata. A significare che l'era del disarmo nucleare è in corruzione. La segno era vuoto... ...manterremo la rotta e ne usciremo di un citone. E non possiamo avere dubbi, l'operazione Desert Storm funziona. Vorresti negarlo? Ne abbiamo già discusso. Che cos'altro vuoi, Livingston? Silenzio! Ha ignorato un ordine diretto, Marshall, e ben sapendo che l'operazione era compromessa. Col dovuto rispetto, signore, lei non era lì. È il gruppo responsabile, questo Pantheon. Sicuro che fossero loro? Questo l'ha confermato a Lauri. Quando si deciderà a dirci come stanno davvero le cose? Qui faccio io le domande, Woods. Se leggessi il rapporto... Ho letto il rapporto, Arrow. Non ho ancora deciso se crederci o meno. Voglio risentire tutto per filo e per segno. Però stavolta... ...a raccontarlo sarà Marshall. Partendo dall'inizio. Eravamo in posizione vicino al confine Iraq-Kuwait. Una squadra molto piccola. Io, Arrow e Kielsen. Alawi è in anticipo. Chiunque debba incontrare non si tratterrà a lungo. Già, specie un contrabbandiere. Ma scommetto che Alawi paga bene per fuggire dal Medio Oriente. Questo non cambia niente. Tanto lui verrà con noi. Outlaw 42, visuale sul convoglio. A quel bersaglio, passo. Ricevuto terra, bersaglio confermato. Al vostro via, passo. Fallo. Outlaw 42, attacco autorizzato. Chiudo. Andiamo a prenderlo. Ricevuto terra. Attacco in corso. Intaserò un po' il traffico. Atom지를 accettare. Allora. Grazie a tutti. Oh! No! 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 Lui sarà al centro del convoglio. E ricorda, Livingstone vuole che lo prendiamo vivo. Capito. Barrage, va a punto addestrazione. Sì, sì, non preoccuparti. Cinque minuti. All'aulio è il ministro della difesa vicino a Sardà. I suoi saranno ben addestrati e armati fino ai dentro. Movimento, le portiere. Ricevuto. Ecco quello che volevo vivere. Due bersagli a terra. Eccone altri, avanzate restando nel fumo. Puoi un altro. Presto sapranno che siamo qui, occhio. E mi gira. Facciamo. Uno in meno. A laulio è in un veicolo nero, sgombrate la strada e provatelo. Ok, veicolo nero. Va avanti, case. Trova a laulio. Veicolo nero, dobbiamo trovarlo. Vedo il veicolo di Alaoui. In mezzo alla strada. Dove? Case, la portiera. Alaoui! Ce l'ho. Calmati! Non ti faremo del male. Chia? Avevamo un patto. Un patto? Non con noi. Dove andavi? Col cara bugiardo. Il vostro uomo l'aveva promesso. Nostro uomo? Chi sarebbe? È nostro? No, e neppure iracheno. Pantheon. Pantheon. Dobbiamo andarcene. Non potete farsela contro di loro. Non ci hanno visti, non devono farlo. Andiamo. Allora, fammi capire bene, Marshall. Il gruppo che sostieni sia Pantheon. Era una forza paramilitare, transnazionale e ben armata, praticamente sbucata dal nulla. A questo punto, invece che attendere rinforzi, avete deciso di fare gli eroi. Dovevamo agire in fretta, altrimenti non avremmo... Ha disobbedito oppure no agli ordini che gli avevi dato. Sì, è così, ma date le tempistiche. Come immaginavo. Questo me lo sarei aspettato da te. Ma non da te. Signore, la nostra missione era recuperare Alaoui con qualsiasi mezzo che fosse... Oh, lo so! Ma allora mi spieghi perché adesso si trova dentro un sacco all'obitorio? Le cose si sono... Complicate. Chi è quella gente? In Pantheon ci sono ex operatori europei e statunitensi. Non so chi sia il capo. Ci bloccano l'uscita. Chiediamo rinforzi e aspettiamo. Aspettate. Scordate. Parash rispondi. Stiamo arrivando. No, siamo compromessi. Alaoui ci rallenterà. Alaoui starai con noi o con Pantheon? Verrò insieme a voi. Cazzo, Troy. Ottima scelta. Case, iniziamo sfoltandoli un po'. Case, abbiamo da fare. Ecco il nostro varco. Passiamo di là. Questi di Pantheon sanno combattere. Siamo in scopera. Siamo in scopera e spieg embargo. Siamo in scopera e compossiam Società! Siamo in scopera μέoro di Tivara! Siamo in scopera e spiegare! Grazie a tutti. Dietro i camion. Trovate così. Fatto. Il punto di raduna è oltre quel canyon. Potresti trascinarci in un'imboscata. È l'unica via di uscita. Farage, ci stiamo avvicinando. Farage, rispondi. Sicuri che lo troveremo lì. Tu pensa a non rallentarci troppo. Qui siamo bersagli facili. Pantheon può farciar pezzi. Contatto! Pantheon è più in alto di noi. Non sai cosa che mi prenda. Fatto. Tra i cespugli. Tra i cespugli. Libero! La meta è verso ovest. Forza! Alaui, che cazzo vuole quella gente da te? Tiratemi fuori da qui e vi dirò tutto quello che so. Come minimo. Ti ammazzerò io. Farage ci sta aspettando più in giù. Farage! Dovremmo essere a posto. State tutti bene? E il vostro? No, 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 no! Padre! Sta fermo! Aspetta che Woods venga a seguire. Il fottuto è asselabile. Traditore della cia. Da quanto scappi dieci misi? Marshall, eh? Il nuovo pupillo di Woods. Calmati, ragazzo. Tanto qui ho finito. Jane. Hai ucciso un bersaglio prioritario a sangue freddo e messo a rischio la sicurezza nazionale. Alaui non poteva finire con Pantheon. Né con Langley. La cia è compromessa. Io sono solo il capo espiatorio. Perché dovremmo crederti? Ehi, Jane, chiudigli un po' quella bocca per me. Certo. Aspetta. Ho un messaggio per Woods. Ah, sì? Ditegli alfiere mangiatore. E che cazzo vorrebbe? Filiamocela. Va bene. Case, usa il lanciatore. Lo abbatteremo. Là, ce l'abbiamo dietro. Non c'è scampo. Fallo fuori. Case, forza, batti con l'elicottero. Che cazzo stai aspettando? Mettiamolo con il razzo. Abbiamo avuto. Grazie. Ancora i tempi? Tutto ok. Per ora. Su, Case. Fa qualcosa. Centro. Aspetta, Troy. Alla scoperta delle piutture. Oh, merda. Questo è guidare. Lo spazio aereo sembra l'Itaro. Fuori pericolo. Servirà una spiegazione per Alaui. Allora, buona fortuna. Altro da aggiungere? Signore, nonostante la condotta irregolare la perdita di Alaui, la cattura di Russell Adler è un trionfo. Sì, Arro. Catturare un agente ribelle è senz'altro un trionfo. Russell Adler. La talpa che ci ha traditi a Panama è responsabile delle tue attuali condizioni, Guz. Perché ha voluto passervi informazioni in Kuwait? Alfiere mangia torre. Idee sul significato? Nessuna. D'accordo. A causa del rapporto laconoso di Arro e il rifiuto di comunicare informazioni cruciali su Russell Adler, il vostro team è sospeso. Dice sul set. È una stronzata. Quanto a te, Arro, sei davvero a tanto così da farti sbattere fuori. È merito di persone come me, Adler, se adesso qui non stiamo parlando russa. La guerra fredda ormai è finita. Ti è chiaro, Guz? Tu e Russell Adler siete rimasti gli ultimi sceriffi globali di un'epoca che appartiene al passato. Prendetevi questo tempo per rifletterci. Congedati. Tutti quanti. Tra cinque minuti nel mio ufficio. Ti consiglio vivamente di mollare l'osso, Marshall. Ammiri il tuo capolavoro? Allora l'hai tenuto? Non tutti i ricordi sono delle cicatrici. Perché siamo qui, Arro? Perché voi sapete qualcosa. Mi spiegate che intenzioni avete? Volevamo andarcene da qualche parte. Sai, ho una gita di piacere. Per staccare un po'. Sentite, stavolta cercherò di pararvi il culo meglio che posso. Ma al prossimo casino che combinate sono cazzi vostri. Ricevuto. Ti devo un favore. Uno solo? Beh, direi dozzina. Fammene uno tu, Troi. Non farti ammazzare. Vedrò cosa posso fare. Alfiere Mangia Torre. Wuz ha capito subito. Adler ci indicava un posto preciso. Il Mar Nero. Stando a Wuz, 15 anni fa, lui e Adler scoprirono un rifugio del KGB abbandonato in Bulgaria. Era noto come la Torre. L'anno scorso, prima che sparisse, Adler stava indagando su un pericoloso gruppo paramilitare. Uno che riceve ordini dall'interno della CIA. Credeva che Panteon stesse sviluppando un nuovo tipo di arma per scatenare sul mondo una minaccia mai vista prima d'ora. E neanche a dirlo, sono emerse prove che hanno incastrato lo stesso Adler, così è fuggito. In questo posto. Ciò che abbiamo scoperto qui negli ultimi giorni ha cambiato tutto. Ora mi interrogo su ciò che credivo di sapere. Su Adler, su Livingstone, sulla stessa CIA. Mi chiedo se convenga nascondere tutto a Jane. Per Wuz potrebbe esserci molto preziosa, ma finirebbe nel mirino se Langley scoprisse le nostre intenzioni. Adler ci ha riuniti qui per un motivo. Fermare Panteon prima che accada. E per riuscirci, Wuz lo rivuole in squadra. Non sarà facile. Adler ha lasciato un nome. Tanto vale iniziare da questo. Non perdere tempo. Segui il piano. Se vate Duma, incontrerei lei. Non so perché fosse in contatto con Adler, ma è la nostra pista. Non mi fido di lei. Forse neanche Adler. Cazzo. Può essere che sia coinvolta in questa cosa di Panteon. Di chi possiamo? Duma incontrerà Keyes ad Avalon, quindi si procede. Bene, bene, bene. Ma guardati, finalmente al comando. Non dovremmo trovare Adler prima. Beh, non per niente andrò a Monaco a cenare col tuo vecchio amico. Amico? Sì, no. Non so forse quello stronzo. Ma ci serve. A volte bisogna morderci la lingua. Se è davvero in gamba come dici, al rientro di Keyes avremo rintracciato Adler. Sempre che Livingstone non l'abbia già infilato in un barile. I dettagli sono sulla bacheca. Sto partendo, quindi dimmi se ti serve qualcosa. Ho qualche idea per dare una sistemata a questo cesso di rifugio, Keyes. Parliamo quando hai tempo. Va bene. Quanti soldi hai da parte? Ben detto. Carpe diem, cazzo. Comunque, se vogliamo farlo, servirà finanza creativa. forse può andare bene per Adler. Per una squadra. Va ripensato da capo. Un'armeria, un poligono, attrezzature. E tutto quello che ci servirà col tempo. E bisogna pagare. Seguivamo una pista del KGB. Una registrazione ci ha portati qui. Sembrava abbandonato. Neppure la nostra talpa nel KGB sapeva di questo posto. Belikov ha ipotizzato fosse di un gruppo autonomo, ignoto al Comitato Centrale. A ogni modo, qui i rossi non ci mettono piede almeno dal 68. Marshall ha trovato dei soldi nascosti in una stanza di sopra. A parte questo, siamo a zero. E non possiamo usare i nostri conti. È pericoloso. In missione. Recupera il denaro che trovi in giro. Sto parlando di un approccio alla Robin Hood. Rubare ai ricchi per dare ai poveri. È nel mio stile. Dubito volesse coinvolgere altri. Aveva delle persone fidate. Ma per quanto ne so, non le ha mai contattate. È per questo che Adler parlava con Dumas. Senza dirlo a Langley. Lo faremo anche noi. Per adesso. Sulla bacheca teniamo conto delle spese. Da un'occhiata. Ehi, che si dice? Quello che c'è nei file di Adler. Un'assassina di circa 30 anni. Viene da una fazione criminale di Avalon, la Gilda. Dopo essere cresciuta nella Gilda è stata esiliata. O se ne è andata. Comunque, se Adler era interessato a lei, lo sono anch'io. Felix Neumann è stato un tecnico e un sicario della Stasi. Qualche anno fa ha creato il ramo militare di Arpanet, perciò spero abbia ancora il tocco. Per ora abbiamo solo il materiale di Adler. Ma può essere fuori di testa. Che lo sia oppure no, quei paramilitari in Kuwait non scherzavano per niente. Ben armati, coordinati e motivati. Io, Jane, sveglia. Appena Langley capirà che ce la siamo svignata, si inventerà qualcosa per darci tempo. Fino ad allora le staranno sempre con il fiato sul collo, quindi ci riuniremo con lei al momento giusto. sono preoccupato. No. Che ti devo dire? Non so, sarò ingenuo ma mi sembra difficile. Se Livingstone fosse coinvolto vorrebbe sbarazzarsi di Adler a qualunque costo. Mi prendi per il culo? Dopo nove anni sto ancora firmando assegni per Temple. Digli di accendere un mutuo su questo posto di merda. Quel bastardo ha la scorza dura. ha perso l'uso delle gambe a Panama e il suo migliore amico. Langley l'aveva messo dietro una scrivania ma detto tra noi non fa per lui. Lui è un soldato, un killer. Da come siamo messi gli sembrerà di essere di nuovo in prima linea. Spiegherebbe perché è in questo stato. Dà un'occhiata in giro quando hai un po' di tempo. Potrebbe venire fuori qualcosa. Certo. Ci rivediamo giovedì. dimmi come vuoi spendere quei soldi e lascia fare a me. a me. a me. a me. Come ha detto Marshall, i dettagli della missione sono sulla bacheca. Grazie a tutti.